Ciao a tutti e benvenuti a questa lezione di italiano da costruire. Oggi parleremo del presente indicativo. Come verrà strutturata questa lezione? Innanzitutto parleremo dell'uso del presente indicativo, poi presenteremo i tre gruppi verbali e la formazione del presente indicativo dei verbi regolari del primo, del secondo e del terzo gruppo. Per finire ci concentreremo brevemente sui verbi irregolari più comuni. Innanzitutto, quando si usa il presente dell'indicativo? Si usa per parlare di azioni abituali, per parlare di azioni che avvengono nel momento in cui si parla, per spiegare regole o dare informazioni, per parlare di azioni che sono iniziate nel passato ma continuano ancora nel presente e per parlare di eventi in un futuro prossimo. Facciamo un esempio per ognuna di queste casistiche. Per quanto riguarda il parlare di azioni abituali, ogni giorno mangio la pasta. Vuol dire che tutti i giorni noi mangiamo la pasta. Per quanto riguarda invece un'azione che avviene nel momento in cui si parla, abbiamo preso l'esempio di Ora inizia la lezione d'italiano. Vuol dire che in questo momento inizia questa lezione d'italiano. Un po' più complesso è lo spiegare le regole e dare informazioni. L'Italia è una penisola, quindi noi non stiamo parlando di qualcosa che avviene nel presente, però stiamo comunicando dei dati di fatto. Poi, parlare di azioni che sono iniziate nel passato ma continuano ancora nel presente. Abito alla spezia da tre anni. Vuol dire che l'azione è iniziata nel passato, ovvero tre anni fa, ma al momento io abito ancora alla spezia. Poi, per quanto riguarda il linguaggio colloquiale, possiamo utilizzare il presente anche per parlare di eventi in un futuro prossimo, quindi delle azioni vicine al momento in cui si parla. Domani andiamo al mare. Per quanto riguarda i gruppi verbali, noi in italiano abbiamo tre gruppi verbali. I verbi inare, i verbi nere e i verbi nire. Per quanto riguarda i verbi del primo gruppo, esso raggruppa tutti i verbi che terminano inare. In questo gruppo troviamo quasi tutti i verbi regolari. Nel secondo gruppo sono inclusi i verbi che terminano per ere e anche questi sono generalmente regolari. Per quanto riguarda il terzo gruppo, abbiamo due coniugazioni differenti. Abbiamo dei verbi che si coniugano sul modello di partire, che è la maggior parte, e un'altra parte di verbi che segue il modello di finire, un gruppo già più ristretto. Partiamo dalla formazione del presente indicativo dei verbi del primo gruppo. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è individuare il verbo all'infinito. In questo caso abbiamo preso come modello parlare. Noi prendiamo l'infinito parlare, togliamo la desinenza aree e ricaviamo il tema verbale che è parl. A questo tema verbale dobbiamo aggiungere le desinenze. Per i verbi del primo gruppo abbiamo la desinenza o per la prima persona singolare, la desinenza i per la seconda persona singolare, la desinenza a per la terza persona del singolare e poi passiamo ai plurali. Per la prima persona plurale noi abbiamo la desinenza i amo, successivamente per il voi troviamo ate e per la terza persona plurale troviamo la desinenza ano. In questo caso, coniugazione di parlare. Io parlo, tu parli, lui o lei parla, noi parliamo, voi parlate, loro parlano. Un altro esempio è il verbo mangiare. Operiamo lo stesso discorso. Prendiamo il verbo all'infinito, mangiare, togliamo la desinenza aree e andiamo ad aggiungere le desinenze che ci interessano. Io mangio, tu mangi, lui o lei mangia, noi mangiamo, voi mangiate, loro mangiano. Abbiamo delle particolarità dei verbi del primo gruppo. Sebbene si tratti di verbi generalmente regolari, si possono trovare delle particolarità in questi verbi. È il caso dei verbi cercare e pagare. Il verbo cercare è particolare perché alla seconda persona del singolare e alla prima persona del plurale dobbiamo aggiungere una H, una sorta di H eufonica che serve per modificare la pronuncia della C in corrispondenza della vocale I. Quindi praticamente il compito di questa H è quello di modificare la pronuncia. Questo perché se noi non inserissimo questa I andremmo a leggere tu cerci. quando il suono del tema verbale è il C, cercare. Quindi per questo motivo andiamo a inserire questa H che modifica il suono avvicinandolo a quello che era il suono originale. Quindi abbiamo io cerco, tu cerchi, lui lei cerca, noi cerchiamo, voi cercate, loro cercano. Stessa cosa per il verbo pagare. viene aggiunta un'H dopo la G e prima della I per modificare il suono che altrimenti noi avremmo. In questo caso avremmo pagi, tu pagi. Dato che il suono originale è pagare andiamo ad aggiungere questa H sempre alla seconda persona del singolare e alla prima persona del plurale. io pago, tu paghi, lui lei paga, noi paghiamo, voi pagate, loro pagano. Parliamo adesso del secondo gruppo. Il discorso è pressoché invariato. In questo caso prendiamo a modello il verbo vedere, togliamo la desinenza ere e conserviamo come tema verbale ved. Lì andiamo ad aggiungere le desinenze che ci interessano. In questo caso abbiamo la O per la prima persona del singolare, la I per la seconda persona del singolare, la E per la terza persona del singolare, Iamo per la prima persona plurale, Ete per la seconda persona plurale, e o no per la terza persona plurale, io vedo, tu vedi, lui lei vede, noi vediamo, voi vedete, loro vedono. Dicasi lo stesso per il verbo leggere. Io leggo, tu leggi, lui lei legge, noi leggiamo, voi leggete, loro leggono. Per terminare, verbi del terzo gruppo. Abbiamo detto che abbiamo due modelli verbali, i verbi che si coniugano sul modello di partire e i verbi che si coniugano come finire. Partiamo dai verbi che assorbono la maggior parte degli altri verbi. Partire, io parto, tu parti, lui lei parte, noi partiamo, voi partite, loro partono. Come vedete facciamo lo stesso discorso, prendiamo il verbo all'infinito partire, togliamo la desinenza ire e conserviamo il tema verbale part. Lì andiamo ad aggiungere le desinenze Invece, i verbi che si coniugano sul modello del verbo finire modificano il tema verbale. Infatti, in questo caso, noi vediamo che non possiamo operare il discorso del conservare esclusivamente il tema verbale fin perché modifica una parte della desinenza. Vediamo come venga aggiunto sc prima della desinenza. Quindi abbiamo io finisco, tu finisci, lui lei finisce, noi finiamo, voi finite, loro finiscono. Come potete vedere, le uniche due persone che conservano il tema dell'infinito sono il noi e il voi, quindi la prima persona plurale e la seconda persona plurale. Per terminare, i verbi irregolari più comuni. Purtroppo, essendo dei verbi irregolari, non seguono alcuna regola prestabilita. Si possono provare a fare delle associazioni andando avanti nello studio, andando avanti col tempo, però, al momento, l'unica regola che possiamo suggerire è quella di cercare di studiarli a memoria e di utilizzarli il più possibile. Abbiamo preso come modello il verbo essere, il verbo avere, che sono i cosiddetti verbi ausiliari, poi, il verbo volere, il verbo dovere, il verbo sapere, il verbo andare, il verbo venire, il verbo fare, il verbo uscire e il verbo stare. Come potete vedere, trovate presenti tutti e tre i gruppi verbali, perché abbiamo dei verbi che terminano per are, per esempio andare, fare, stare. Abbiamo dei verbi del secondo gruppo, per esempio avere, volere, dovere, sapere, e verbi del terzo gruppo, come venire oppure uscire. Rapidamente li coniughiamo. Essere, io sono, tu sei, lui lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Per quanto riguarda il verbo avere, io ho, tu hai, lui lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Verbo volere, io voglio, tu vuoi, lui lei vuole, noi vogliamo, voi volete, loro vogliono. Il verbo dovere, io devo, tu devi, lui lei deve, noi dobbiamo, voi dovete, loro devono. Il verbo sapere, io so, tu sai, lui lei sa, noi sappiamo, voi sapete, loro sanno. Il verbo andare, io vado, tu vai, lui lei va, noi andiamo, voi andate, loro vanno. Il verbo venire, io vengo, tu vieni, lui lei viene, noi veniamo, voi venite, loro vengono. Il verbo fare, io faccio, tu fai, lui lei fa, noi facciamo, voi fate, loro fanno. Il verbo uscire, io esco, tu esci, lui lei esce. Noi usciamo, voi uscite, loro escono. E per finire il verbo stare, io sto, tu stai, lui lei sta, noi stiamo, voi state, loro stanno. Facciamo una frase da esempio per ognuno di questi verbi. Verbo essere, io sono italiana. Avere, io ho 31 anni. Volere, io voglio andare al mare. Dovere, io devo studiare. Sapere, io so parlare l'italiano. Andare, io vado a fare la spesa. Venire, io vengo dopo di te. Fare, io faccio una torta. Io faccio il bucato. Uscire, stasera esco con i miei amici. Stare, come stai? Io sto bene. Prima di salutarvi, mi permetto di consigliarvi alcune risorse presenti sul web che possono rendervi più agevole lo studio. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento e un buon studio.